Il progetto Città d'impatto positivo è un progetto che ci ha colpito fin dall'inizio per il suo impatto diretto sulla comunità locale. La sostenibilità, l'inclusione sono tematiche per noi molto importanti, in particolare il nostro istituto da anni offre una visione dell'accoglienza degli studenti e degli alunni del territorio molto incentrata sull'inclusione reale. Fare scuola ai ragazzi che studiano facilmente, che sono più portati per lo studio, che hanno alle spalle famiglie che li possano aiutare, è sempre molto più facile. Quello che è difficile è invece fare progetti per aiutare o supportare i ragazzi che hanno delle fragilità sia didattiche che sociali appunto. Se tu riesci, come in questo caso, a inoculare, dico inoculare appositamente, nei bambini il concetto del rispetto, che può essere rispetto per i migranti, rispetto per la donna, rispetto per qualsiasi altro, essere diverso da te, beh tu poni le basi per creare coesione sociale. Finché ho un po' di energia ho sempre pensato di fare qualcosa per qualcuno. Mi fa star bene. La busta paga morale. C'è bisogno tanto di servizi. Una macchina che si ferma salta all'appuntamento, salta alla visita. Sono cose molto, ma molto serie, molto importanti. Quindi non è solo il servizio che diamo, ma la responsabilità che abbiamo in confronto di questi pazienti. A volte abbiamo anche delle situazioni di difficoltà perché siamo costretti a dire di no, perché non abbiamo il mezzo, banalmente. E quindi questo diventa anche una frustrazione per i nostri volontari, perché vorrebbero prodigarsi, vorrebbero fare e non sempre riusciamo a dare risposte a tutti i bisogni. La soddisfazione più grande è vedere che i ragazzi aprono un colloquio con te, ridono, sorridono, cantiamo insieme in macchina, parliamo di cosa avevano fatto il giorno prima. è proprio, si crea un rapporto come con i propri figli, diciamo. Auguro a voi altri tutti i beni di questo mondo, per quello che fate e per quello che farete. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo.